A nome del comitato di Festival Letteratura ringraziamo Global Informatica per aver contribuito alla realizzazione di questo evento e diamo il benvenuto a Luigi Manconi, Zero Calcare e Luca Masculin. Grazie. Applausi. Buonasera a tutti, grazie per essere qui stasera ad ascoltare persone che meritano di essere ascoltate su un tema così delicato come il carcere, ovvero Luigi Manconi e Michele Rech che conosciamo tutti come Zero Calcare. Lasciatemi ringraziarvi anche perché ascoltare storie vicine di carcere non è semplice, lo sappiamo, il carcere è uno dei più grandi rimossi della nostra società, il pensiero è che esistano 58 mila persone, ciascuna chiusa in pochi metri quadri, che ha la possibilità di fare un centesimo delle cose che possiamo fare noi. È un'idea respingente anche per le persone più ben intenzionate, poi ovviamente ci sono quelle a cui non interessa semplicemente la sofferenza, il dolore di chi magari nella vita ha preso qualche decisione storta o rimasto impigliato in situazioni più grandi di lui o di lei. E però mi sembra che nel nostro discorso pubblico rimuoviamo il carcere a tal punto che sui giornali, nonostante tutte le carceri italiane, abbiamo una popolazione complessiva che sfiora quella di Pavia o di Cosenza, però sui giornali italiani, sui telegiornali, il carcere arriva solo quando succedono due cose, o quando le persone detenute si suicidano, oppure quando ci sono queste cosiddette rivolte. Però se ci pensate, entrambe queste cose sono punti di arrivo, di vicende lunghe, magari settimane, mesi, anni, che rimangono nell'ombra. Noi arriviamo alla fine, però ce ne occupiamo sempre tardi di storie come quella di Azzurra Campari o di posti come Santa Maria a Capoavetere. E però esistono delle cose che invece si possono fare che secondo me riducono un po' il senso di impotenza che proviamo di fronte a, appunto, quando arriviamo alla fine di queste vicende, di questi racconti. Faccio un esempio piccolissimo e poi lascio la parola agli illustri ospiti, appunto, giustamente siete venuti per loro. Ve ne sarete sicuramente accorti che questa è stata l'estate più calda di sempre, prima vedo tante persone che sventolano, che si fanno aria col programma. Eppure l'ultimo rapporto di Antigone dice che soltanto in metà delle celle italiane esiste una doccia, che è una delle poche cose che può dare refrigeri a una persona detenuta, nonostante ci sia una legge che dal 2005 obbliga tutte le carceri italiane a dotare di una doccia le proprie celle. Antigone dice che di notte viene chiuso spesso il blindo, che è la porta di ferro che non fa passare neanche un filo d'aria, che quasi nessuna cella ha il frigorifero e nemmeno nelle sezioni a volte c'è anche il frigorifero. Ecco, tutto questo in celle dove magari si sta in 7, 8, in 10 metri quadri, pensate a quanto se ne è parlato, quanto deve essere stato difficile per i detenuti passare quest'estate e quanto poco se ne è parlato sui giornali di questo problema assolutamente risolvibile. Quindi oggi proviamo parzialmente a rimediare a questo vuoto presente sui giornali. Iniziamo proprio dal professor Manconi a cui chiederei proprio di partire dalle basi. Credo che una parte consistente di noi non sia mai stato in carcere, non abbia mai messo piedi in un carcere e quindi volevo chiederle un po' come è fatto un carcere in Italia nel 2023? Anche fisicamente poco fa cennavo alla questione del blindo, dei frigoriferi e soprattutto come sono fatte le giornate di chi vive dentro alle carceri italiane oggi. Buonasera a tutti e grazie di questa importante occasione di discussione. Io vorrei dire che ai dati che prima hai elencato ne va aggiunto un altro, a mio avviso molto significativo. In appena il 40% delle celle dove sono rinchiuse detenute c'è il bidet. Io vorrei dire questo, il simbolo dell'ignominia del nostro sistema penitenziario è appunto in questa assenza, cioè questo disprezzo nei confronti dei bisogni più elementari, i bisogni del corpo femminile, che il carcere perpetua, negando quindi insieme a quel servizio essenziale quello che quel servizio rivela, ovvero l'offesa alla dignità. Perché la parola dignità è cruciale per quanto riguarda il carcere. Si sente parlare spesso e giustamente di sovraffollamento, ma il sovraffollamento di una cella di un carcere italiano non corrisponde alla spiaggia di Riccione alle 13 del 15 agosto. È tutt'altra cosa. Perché da quella spiaggia di Riccione si può, bene o male, chi lo vuole, evadere. Da quella cella non si può evadere. In quella cella non c'è sovraffollamento, c'è una congestione di corpi sovrapposti l'uno all'altro, combinato l'uno all'altro, incrociato l'uno all'altro, di corpi, di sudori, di effluvi, di liquidi, un insieme di arti fisici che tutti insieme offendono la dignità dell'individuo e lo riducono a cosa? Un posto dove non è possibile immaginare alcuna forma di privacy, un luogo dove lavarsi la faccia, lavare l'insalata, lavarsi i piedi, avviene in genere nello stesso spazio ridotto, in quello stesso limitatissimo ambito dove scorre un filo d'acqua. Ecco, questo è il sovraffollamento, è una promiscuità coatta, un'intimità imposta dalle condizioni materiali di quella convivenza. E io penso che tutto ciò rimandi a quello che più di tutto mi preme dire. Il sovraffollamento è funzionale a quello che è, a mio avviso, lo scopo vero del carcere, uno scopo non detto, una finalità non dichiarata, ma che nei fatti si esplica come il risultato concreto di quella promiscuità coatta. Sapete qual è quella finalità, qual è la destinazione ultima, profonda, del sistema penitenziario? È l'infantilizzazione dei detenuti, la loro riduzione alla minorità, che poi corrisponde alla minore età e che si manifesta in tutta l'organizzazione complessiva del carcere. Guardate, nel carcere, come in tutte le istituzioni totali, ma come in tutta la nostra società, il linguaggio è decisivo. Cioè le parole che si usano, le parole che si scambiano, sono determinanti per comprendere la natura di quel sistema. Bene, vi faccio alcuni esempi. All'interno del carcere, il sistema di relazioni tra detenuti e custodi, le relazioni che si instaurano tra il detenuto e l'autorità, il discorso quotidiano, le richieste fatte, le domande, le rivendicazioni, tutto ciò rimanda a una parola chiave, domandina. Tutte le istanze, tutte le richieste, tutti i bisogni, la richiesta di una visita specialista o di un colloquio col direttore, passano attraverso questa parola magica che poi corrisponde a un testo scritto, un facsimile nel quale il detenuto formula la sua richiesta. Come si chiama questo documento? Non si chiama domanda, si chiama domandina. Se voi pensate che il detenuto che all'interno del carcere è addetto alle polizie si chiama scopino, il detenuto che all'interno del carcere è addetto alla spesa esterna si chiama spesino, se voi tenete conto che il compagno di cella si chiama concellino, scoprirete immediatamente che il discorso dei detenuti, il loro linguaggio, le loro parole sono dominate da una dimensione infantile e vezzeggiativa, cioè da un processo di subordinazione di quei detenuti a una dimensione protetta, a una dimensione appunto di minorità. Il detenuto è qualcuno che è privo specificatamente e definitivamente di autonomia, privo totalmente di indipendenza e lo si vede se ci confrontiamo su una questione che viene sempre cancellata, meglio rimossa, totalmente ignorata. Chi entra in un carcere viene mutilato, amputato totalmente della sua sessualità. Il carcere prevede reclusi, uomini e donne, privi della sfera sessuale. In carcere non è prevista la dimensione affettiva, non è prevista la relazione familiare, tantomeno la relazione sessuale. Perché non è prevista? Perché quel recluso è qualcuno che si trova in una condizione di minorità. È un bambino. E sapete bene che il bambino è quell'individuo in formazione che è impedito innanzitutto nei suoi movimenti perché i suoi movimenti sono decisi, determinati, controllati dagli altri e poi al quale si nega la sua sfera sessuale che è presente sì nei primi anni dell'infanzia ma che viene cancellata, ignorata, mortificata. Questo meccanismo viene applicato al recluso e intorno a questo processo di infantilizzazione si gioca tutta intera la vita carceraria. Quindi il carcere è questa macchina qui. È una macchina finalizzata a rendere infante, minore, bambino, l'uomo adulto che vi si trova recluso a de-responsabilizzarlo, a togliergli qualunque capacità di assumersi la responsabilità anche dei propri errori, anche dei propri reatti, anche dei propri crimini, perché ciò che è utile al sistema penitenziario non è un detenuto consapevole, è un detenuto subalterno. Questo a ben vedere è la natura stessa del carcere e la sua fondamentale finalità. raccolgo qualche spunto dalla risposta del professor Manconi per coinvolgere Michele a cui volevo chiedere soprattutto questa cosa. Tu nei tuoi lavori parli spesso di Re Bibbia, della presenza ingombrante di questo posto dove sono rinchiuse 300 persone nelle condizioni di cui parlava il professor Manconi volevo chiederti cosa significa per te vivere accanto a un posto del genere anche concretamente cioè tu ci passi davanti ogni giorno per fare le tue cose o saltuariamente e anche come ha cambiato secondo te come ha condizionato diciamo la vita del quartiere il carcere. Allora ciao intanto grazie a tutti e allora è una risposta strana nel senso che chi è cresciuto a Re Bibbia chi abita là in qualche modo ha sue fatto a questo Moloch gigantesco de cemento grande quanto forse più del quartiere stesso nel senso che in realtà non sta manco al centro del quartiere nel senso che occupa una parte del quartiere ma arriva quasi fino a San Basilio praticamente quindi è una cittadella in realtà ed è qualcosa che da un lato chi abita a Re Bibbia vive l'indotto di quel carcere che è fatto evidentemente di tantissimi secondini che abitano in zona ma è fatto anche di un'umanità che spesso non si vede altrove nel senso che c'hai le persone che arrivano all'alba per le visite c'hai le persone nel pratone dove uno magari porta a passeggiare i cani che il pratone è l'unico punto del carcere da cui si riesce a parlare con i detenuti con le detenuti in realtà perché la parte che si vede è la parte del femminile e quindi spesso ci sono magari i padri che portano i figli a parlare alle madri da una parte all'altra vedi le persone che aspettano che apra all'orario in cui si può entrare alla fermata oppure che aspettano la fermata dell'autobus eccetera che arrivano a volte da molto lontano perché poi bisogna arrivare molto presto e c'è chi si imbarca da notte fonda per arrivare a Rebibbi all'ora in cui apre il momento delle visite eccetera quindi insomma si incontra sicuramente un'umanità con cui uno impara a fare i conti però al tempo stesso nel quartiere come in tutto il resto della socialità cioè in tutto il resto della società il carcere comunque è un posto nascosto nel senso che quello che succede al di là delle mura a meno che non ci siano le rivolte e quindi vedi il fumo nero che si alza da dietro e senti le sirene che arrivano oppure quando scappa qualcuno che in quelle rare volte che scappa qualcuno c'è gli elicotteri che battono il quartiere comunque è qualcosa che rimane sullo sfondo e non si vede mai quello che c'è dietro quelle mura là io per esempio il mio incontro col carcere vero e proprio prima ancora di conoscere persone che ci transitassero dentro in qualche modo è avvenuto comunque dall'incontro con una persona che è Salvatore Ricciardi che quando io avevo 17 anni sono stato tanto tempo in una radio romana che si chiama Radio Onda Rossa e Salvatore Ricciardi era un detenuto grande nel senso condannato a 30 anni di carcere che nella fine di questi 30 anni che stava scontando interamente svolgeva diciamo poteva svolgere attività lavorativa in radio e tornava a dormire in carcere e io tra l'altro non sapevo che lui tornasse a dormire in carcere perché lo vedevo di giorno eccetera lui teneva una trasmissione sul carcere è stata la prima persona che anche non sapevo che lui era un detenuto in quel momento ma sentirlo parlare di carcere mi ha dato una prospettiva completamente diversa da quello che avevo sentito finora dai telegiornali dalla televisione da quello che era il mio immaginario da ragazzino e da adolescente rispetto a quella cosa perché era un signore assolutamente incredibilmente mite assolutamente coltissimo con generoso che nonostante sia l'età che una serie di esperienze di vita fatte non si metteva mai su un piedistallo eccetera e quando poi io scoprì che mi dicevano guarda lui poi se ne va perché deve tornare in galera la sera a me quella roba mi colpì tantissimo e comunque mi cambiò completamente l'immagine che avevo del carcere molto più di quello che aveva fatto il carcere proprio di cui vedevo soltanto le mura da tutta la vita perché abitavo a 100 metri ho capito mi hai dato uno spunto e lo raccolgo al volo in realtà entrambi avete parlato accennato a come si racconta il carcere all'immagine che emerge da fuori questo luogo appunto nascosto fra delle mura e quindi approfitto di avere qui il professor Manconi che anche a mio parere è uno dei più bravi e brillanti divulgatori sul carcere nel senso che i suoi articoli su Repubblica sulla stampa hanno una concretezza unica nel senso che mettono proprio al centro le persone le loro sofferenze i loro bisogni le loro fragilità e poi dietro tutto il resto e quindi volevo chiederle come le sembra che viene insomma come le sembra il racconto del carcere oggi di nuovo sui giornali sui telegiornali italiani lasciando da parte i suoi preziosissimi contributi per la stampa e Repubblica però perché emerge ancora un'immagine così diversa diciamo dalla realtà e così stereotipata perché il carcere è davvero il grande rimosso della società che cos'è il carcere il carcere è il luogo dove vengono imprigionati coloro che hanno commesso il male quindi è un luogo simbolico e insieme concretissimo dove ci sono gli autori o i presunti autori dei crimini più efferati e allo stesso tempo di reatti che certamente determinano disordine sociale ma quello che è importante è comprendere che il cittadino che in carcere non entra e che non è destinato a entrare nemmeno nella vita futura avverte oscuramente che quel male che hanno commesso coloro che nel carcere sono reclusi è qualcosa che lo riguarda il cittadino avverte che i detenuti non hanno resistito a una tentazione quella appunto di commettere il male di realizzare un crimine che è una tentazione che anche egli avverte la tentazione di uccidere di sopraffare l'altro di rubare di ingannare in sostanza di comportarsi nei confronti degli altri associati attraverso l'esercizio delle diverse forme di violenza avverte cioè che se quel cittadino non è in carcere certo lo deve a tante ragioni importanti seri al fatto che ha avuto una buona educazione magari al fatto che ha un sistema di valori particolarmente robuste lo deve al fatto che si è innamorato e che quindi ha un progetto di vita lo deve al fatto che ha avuto buoni consiglieri tanti amici ma che tutto ciò non lo salvaguardia non lo rassicura non lo garantisce rispetto al rischio di commettere il male ma questa prospettiva è talmente inquietante talmente perturbante per usare un termine classico che preferisce ignorare quel male non solo preferisce ignorarlo vuole che quel male resti isolato dentro quell'istituto dentro quella sede destinato a custodirlo quel male cioè vuole la rimozione di quel male guardate ancora una volta torno al tema del linguaggio la parola rimozione come sapete appartiene alla disciplina della psiche però ha molti altri significati e la rimozione dei detritti cioè i materiali di una costruzione che viene abbattuta e che poi richiede che i detritti le macerie di quella costruzione vengono appunto spostate da dove sono però rimozione è anche l'azione compiuta da vigili urbani per spostare un'auto parcheggiata in sosta vietata cioè rimozione è effettivamente l'azione dello spostare dallo sguardo di chi osserva ma a ben vedere dal suo cuore cioè da ciò che lui sentre dentro di sé spostare ciò che turba ciò che inquietta ciò che crea disagio allora se questo è il significato profondo della termine rimozione pensando agli altri significati che ho voluto dargli diciamo quelli dell'attività idile ad esempio o quello dell'amministrazione della città con i vigili urbani che spostano la macchina in sosta vietata provate a fare questa associazione da decenni si parla della necessità di abolire il carcere di Regina Celi a Roma da decenni si parla della necessità di abolire il carcere di San Vitore a Milano questi due istituti penitenziari sono conficati nel cuore della città cioè sono sotto lo sguardo dei cittadini in entrambi i casi familiari dei detenuti dall'esterno riescono in qualche modo a comunicare con i reclusi bene da decenni si vuole prendere questo simbolo così concreto così materiale così corposo così fisico del male e della sua punizione e spostarlo altrove come è stato fatto a Milano ad esempio a opera a decine di chilometri dalla città come si vuole fare a Roma cancellando Regina Celi e realizzando un altro carcere questa operazione quindi che nasce da una pulsione psicologica profonda rimuovere ignorare non voler vedere cancellare sottrarre al proprio sguardo il male la sua evocazione la sua sanzione i suoi autori poi ha una sua concreta applicazione attraverso le politiche urbanistiche attraverso le politiche architettoniche attraverso appunto la realizzazione di carceri lontano dal centro cittadino per questo ci sono buonissime ragioni per volere che invece San Vittore Regina Celi restino dove sono e per questo ecco un punto che tengo molto a sottolineare per questo il lavoro di Michele di Zero Calcare è così importante perché così caparbiamente concentrato direi ossessivamente focalizzato sul fatto che quel carcere Re Bibbia sia davvero conficcato nel cuore della città abbia lì le sue radici abbia lì la sua concreta materialità trovi lì le radici del suo dolore e quindi anche dell'attività per ridurre quel dolore della compassione che quel dolore può suscitare guardate se vi capitasse di entrare in un carcere le sensazioni saranno tantissime ma la cosa che più vi colpirà quando ne trarrete un bilancio è l'odore l'odore del carcere è qualcosa di terribile perché è il frutto di quella promiscuità coatta di cui parlavo prima di quella congestione dei corpi di quell'incrocio di sudori umori flussi deiezioni di quell'insieme cioè di attività dei corpi umani che lì vengono abrutiti nel momento stesso in cui li si sovrappone l'uno all'altro senza consentire che il minimo spazio vitale dia l'occasione di affermare una propria dignità qual è la dignità ma lo dico nel senso più alto di questa parola più nobile di questa parola qual è la dignità di un maschio adulto costretto a defecare davanti ai suoi compagni di cella può esservi dignità in quella attività in quella convivenza obbligata può esservi io penso di no io penso che lì la mortificazione della dignità sia la più crudele negazione della giustizia e l'affermazione della più ignobile iniquità restiamo su questo fracciato restiamo su questi temi volevo chiedere a Michele come si traduce concretamente tutto questo come si fa a tradurre per esempio in consenso politico una proposta come questa sulla dignità allungo un po' la domanda così ci puoi pensare meglio nella striscia che hai scritto a dicembre per internazionale sulla storia di Alfredo Cospito tu a un certo punto parli molto molto efficacemente come sai fare tu del complicatissimo dibattito che c'è intorno al 41 bis che da anni viene descritto da chi si occupa di carcere dal Consiglio d'Europa come una misura disumana e tu a un certo punto scrivi non sono segnato diciamo domandi a chi legge è accettabile che per una categoria il sistema giudiziario abbia solo il volto della vendetta tu in quel momento parli dei mafiosi però io temo che per come è messo diciamo il dibattito pubblico in Italia in questo momento un sacco di persone ti risponderebbe di sì mi ha proprio risposto di sì tra l'altro mi ha risposto di sì persone che poi mi andavo a guardare che facevano nella vita per guardare i loro profili e metà di questi peraltro erano avvocati e quindi mi chiedo che tipo di cultura giuridica c'hai la risposta era proprio io sono a favore della tortura e penso comunque tu ti sei formato dentro le università di diritto italiane forse c'è qualcosa che si inceppa da qualche parte comunque su come questa roba si traduce in consenso politico temo che la risposta è che non si traduce in consenso politico in questo momento e penso che in generale il motivo per cui tutti stanno bene attenti a non parlare di carcere e se ne parlano ne parlano soltanto per dire in galera e buttare la chiave è proprio perché il consenso politico in questo momento si ottiene con il discorso opposto cioè almeno l'esempio mio è quello di avere un pubblico che negli anni si è molto uniformato alla mia sensibilità su tanti temi all'inizio quando hanno scoperto le cose mie dal blog eccetera era un ventaglio molto ampio poi man mano che il mio profilo in qualche modo si delineava i nazisti hanno smesso di leggermi o me leggono in segreto come io in segreto ascolto le canzoni dei nazisti però non è che mi scrivevano più per lamentarsi mentre invece le posizioni sul carcere continuano a provocare un grosso shock nei miei lettori pure quelli progressisti e che per il resto sono allineati con me credo che dipende dal fatto che per esempio negli ultimi trent'anni anche il discorso diciamo del mondo progressista che prima faceva un'analisi del carcere anche come un'istituzione in qualche modo anche da superare e perdere caratteristiche che poi magari dico brevissimamente perché è uno dei grandi rimossi secondo me del discorso invece negli ultimi trent'anni io ho l'impressione che di carcere quel mondo ne abbia parlato soltanto per dire che Berlusconi doveva andare in galera e basta e quindi in qualche modo questa cosa che del carcere tradotto in una specie di strumento di riscossa contro appunto il potere politico corrotto eccetera ha fatto sì che c'è un livello di barbarie come dicevi te nel senso che se tu alla gente gli chiedi ma è possibile che questa cosa che evidentemente non ha nessuna finalità di rieducazione ha soltanto una finalità di annientamento dell'individuo della dignità dell'individuo eccetera cioè come può essere compatibile con tutto quello che poi dovrebbe essere almeno sulla carta questa cosa la gente mi dice non me ne frega un cazzo non è un albergo a 5 stelle ci poteva pensare prima e se li potessero torturare li dovrebbero torturare e così quindi io temo che con questa cosa sia molto difficile fare i conti ti aggiungo un altro passaggio tu in un altro tuo lavoro sul carcere che è lontano dagli occhi lontano dal cuore quello in cui parli delle cosiddette rivolte nei primi mesi della pandemia a un certo punto auspichi che il carcere di Re Bibbia abbia le mura di vetro in modo che la gente possa guardare cosa sta succedendo dentro tu a distanza di tre anni pensi ancora che l'incontro diretto tra una persona che sta fuori e una persona dentro possa portare più consapevolezza oppure anche a fronte di una testimonianza diretta subentra quel cattivismo che di cui insomma di cui facevamo a cui facevamo riferimento poco fa questa barbarie che hai chiamato insomma l'hai definita così guarda io sono abbastanza convinto che comunque il cattivismo è qualcosa che è facile perché poi non fa i conti con le conseguenze di quello che stai dicendo penso che se ognuno di noi fosse boia materiale fisico e dovesse applicare le cose che auspica sarebbero tutti molto più cauti nel indicare sì nell'ospicare torture e quant'altro quindi in realtà continuo a pensare che se le mura del carcere fossero di vetro intanto quando tutti cascano dal pero vedendo quello che succede magari a Santa Maria Capovedere dei quei pestaggi eccetera se questa cosa poi quando questa roba quando si vedono le immagini comunque qualcuno un pochettino vacilla se questa cosa succedesse sotto gli occhi di tutti mentre vanno a lavorare la mattina forse l'idea che quel posto quantomeno non funziona bene e quantomeno non produce sicuramente degli individui poi pronti a reinserirsi nella società in maniera civile rieducata sono abbastanza sicuro che questa roba un po' di peso ce l'avrebbe mi hai dato un assist abbastanza importante nel senso che volevo chiedere al professor Manconi di hai parlato di tortura il professor Manconi ha appena scritto una pre-eo nella collana diretta da Goffredo Fofi e la prefazione del professor Manconi è sulla tortura e in un particolare passaggio parla dei pestaggi di Santa Maria Capuavetere scrivendo questa cosa di nuovo me la sono appuntata la finalità della tortura è l'imposizione o la restaurazione di un ordine attraverso il disciplinamento dei corpi e lo stato di soggezione dei custoditi giusto parola per parola ora qui si parla delle violenze specifiche di Santa Maria Capuavetere avvenute l'8 aprile del 2020 se non sbaglio ma questa è una definizione che a me da subito è sembrata aderire molto bene a tutta l'esperienza del carcere no? e quindi di nuovo il modello del carcere per come lo conosciamo noi l'abbiamo sempre conosciuto è inerentemente legato all'idea di tortura è legato al concetto di controllo del corpo del recluso una volta che metodologia della custodia fine dell'esecuzione della pena attività che si realizzano intorno ai detenuti sono tutte funzioni di un controllo del corpo il passaggio da quel controllo come attività di vigilanza a il controllo come attività di manipolazione del corpo manipolazione in senso stretto porre le mani costringere gli arti del custodito controllarne i movimenti limitarne l'autonomia beh il passaggio dalla custodia alla tortura è assai facile basta un non nulla per realizzarlo basta una situazione di tensione oppure come è successo nel caso dei fatti di Santa Maria Capoavettere basta una decisione presa da dirigenti dell'amministrazione penitenziaria di dare una lezione e dare una lezione è sempre quel significato ripristinare l'ordine perché i movimenti dei corpi dei reclusi nei giorni precedenti avevano cercato di affermare una loro autonomia una loro indipendenza una loro libertà se i corpi reclusi avevano cercato una forma di libertà si doveva respingere questo tentativo imponendo una forma di coazione e la coazione richiedeva l'esercizio della forza ma quello che conta è che tutto il carcere tutto il sistema si fonda sul fatto che il potere interno l'autorità la gerarchia dispone della possibilità di esercitare la forma la forza cioè di esprimere violenza l'ordine costituito dentro il carcere è un ordine costruito sul fatto che un cetto in questo caso i poliziotti un soggetto i poliziotti penitenziari e i loro dirigenti possono manipolare i corpi affidati alla loro custodia quindi la violenza è proprio immanente al carcere è proprio dentro il sistema di rapporti del carcere il sistema quotidiano di rapporti le relazioni non a caso il carcere non è esclusivamente eccezione quando ricorre agli strumenti della tortura perché intrecciato a questo ricorso c'è poi una violenza quotidiana sono stati citati prima i suicidi ma bisognerebbe ragionarci a lungo in profondità all'interno della popolazione detenuta la frequenza dei suicidi sentite questa è 16 17 18 volte quella della frequenza dei suicidi fuori dal carcere cioè ci si ammazza in carcere 16 18 volte più di quanto ci si ammazzi fuori dal carcere e benché la popolazione femminile all'interno della complessiva popolazione carceraria sia una minoranza del 5% all'interno di questa componente femminile la frequenza dei suicidi delle donne detenute è doppia rispetto alla frequenza dei suicidi dei maschi detenuti potete immaginare quale concentrazione di violenza questo tradisca perché l'autolesionismo è una forma di violenza indirizzata contro se stessi più spesso indirizzata contro se stessi e contro gli altri ma quello che prevale è comunque il contenuto di violenza di questi rapporti ora ancora un dato in questo momento 7 settembre 2023 nel sistema penitenziario italiano cioè oggi mentre noi siamo qui a parlare all'interno delle carceri italiane si trovano 19 bambini dai 0 ai 3 anni reclusi con le loro madri io li chiamo gli innocenti assoluti perché in carcere è legittimo dichiararsi innocenti comunque sempre perché è un modo di affermare la propria identità la propria dignità la propria resistenza ma c'è qualcuno che è davvero innocente assoluto ed è quel bambino dai 0 ai 3 anni per il quale la nostra sgangheratta organizzazione di welfare non è stato in grado nel corso di una dozzina d'anni di realizzare quelle 4 5 case famiglia che potrebbero garantire allo stesso tempo la sicurezza rispetto a reatti commessi dalle madri senza incidere in profondità nella psiche di quei minori sono 19 ma 4 anni fa erano 55 cioè c'è una percentuale di infanzia italiana detenuta detenuta dal nostro stato di diritto dalla nostra civiltà giuridica dal nostro sistema democratico è un dato che se vogliamo proprio per il numero esiguo di bambini coinvolti è ancora più struggente perché rivela come la nostra impotenza democratica la nostra incapacità di governare le contraddizioni della società è tale da non riuscire nemmeno a trovare una soluzione per quei 19 innocenti assoluti torno da Michele per farti una domanda in quanto autore in questo mondo non mi renderà cattivo la tua serie su Netflix che credo il 90% delle persone qui presenti abbia visto tu non parli di carcere ma parli di luoghi che hanno dei punti di contatto credo un centro di accoglienza per richiedenti asilo una comunità in cui passa del tempo Cesare che è un po' il protagonista di questa serie tu comunque parli di luoghi di costrizione come fai a diciamo approcciarti a rappresentare queste persone che appunto vivono dentro ci hanno passato un periodo immagino anche diciamo la delicatezza che secondo me contraddistingue tutti i tuoi lavori diciamo abbia un peso notevole però come si fa a rappresentare una persona che spesso da fuori viene vista solo in quanto abitante di un centro di accoglienza persona che ha passato un periodo in un centro insomma in una comunità come fai? il modo migliore mi sembra che è sempre quello di dare la parola a loro o quantomeno di riprenderlo dentro lontano dagli occhi lontano dal cuore quello fatto per internazionale per esempio tutta la costruzione della storia io l'ho fatta affidandomi alle parole di un amico mio che stava dentro quando nel periodo delle rivolte e che poi mi ha gli ha proprio chiesto se potevo intervistarlo e prendere le sue parole e anche per costruire alcune cose dei migranti dentro questo mondo non mi andrà cattivo eccetera non erano le persone che stavano lì dentro nel momento in cui sono successi gli scontri eccetera ma era stato comunque sempre fatto chiacchierando con qualcuno che si trovava là secondo me è la cosa meglio perché io l'ho visto sulla mia pelle che anche rispetto all'idea che avevo io che era pensavo comunque un'idea abbastanza elaborata su cui mi ero costruito tutta la narrazione quando poi parli con quelle persone c'è comunque sempre qualcosa che ti spiazza nel senso che ci sono delle cose che a volte non coincidono con la narrazione che tu ti eri immaginato anche che magari era orientata in un certo modo però poi scopri che anche anche il mio era comunque un pregiudizio o era comunque una semplificazione di una realtà che è molto più contraddittoria in generale un esempio concreto per esempio rispetto al pischello che è uscito quello di lontano dagli occhi lontano dal cuore io mi sono trovato di fronte a uno che mi raccontava per la sua esperienza come un'esperienza estremamente fortunata mentre io mi ero preparato a qualcosa di molto più violento e molto più drammatico lui in qualche modo me l'ha raccontata come tutto sommato una cosa anche da sfatare in quei termini lì nel senso che esisteva anche un modo di attraversare quell'esperienza non necessariamente drammatica eccetera e poi però quasi senza rendersene conto mi raccontava della sezione accanto che è la sezione in cui invece erano successe le cose più movimentate come invece qualcosa di molto più violento di quello che anche io avevo saputo leggendo dagli articoli eccetera quindi comunque ti restituisci una complessità rispetto a quello che penso che è sempre la prima cosa e poi l'altra roba è che quando parli con le persone c'è qualcosa che emerge in maniera gigantesca che è un altro dei grossi rimossi è che comunque il carcere è comunque un'istituzione di classe nel senso che ogni volta che qualcuno dice eh però come si fa a fare altrimenti in realtà altrimenti si fa per un sacco di persone perché se uno ha un domicilio in cui può andare ai domiciliari se uno ha un lavoro o qualcuno che gli dà un lavoro che garantisce per andare a fare i lavori adegui eccetera quelle stesse pene qualcuno se le sconta fuori e invece qualcun altro che non ha i mezzi se le sconta dentro quindi questa è la dimostrazione che quando parlavamo del welfare da trovare per i ragazzini in realtà con un sistema di welfare diverso la gente in carcere non ci starebbe chiaro che alcune categorie probabilmente non è sufficiente questo ma in realtà a parità di reato chi ha delle condizioni in carcere non ci entra e chi ce ne ha altre invece ci creva dentro faccio faccio il mio mestiere e aggiungo dei numeri a questo discorso così saggio di Michele la recidiva cioè la reiterazione del reatto da parte di coloro che hanno espiato interamente la loro pena in una cella chiusa la recidiva è del 70% 70% pensate la recidiva di coloro che espiano la loro espiano? espiano suona veramente male vabbè accogliamo questo la loro pena in detenzione domiciliare crolla arriva al 20% scende ancora più giù cioè le misure alternative al carcere sono estremamente più efficaci per combattere la reiterazione del reatto di quanto sia la cella chiusa questo è il punto per questo quando diciamo abolire il carcere non stiamo affermando un'utopia stiamo parlando di un programma concreto politico che progressivamente può ridurre al minimo la necessità del carcere al quale destinare solo coloro che si sono rivelati e confermati socialmente pericolosi ma dovete sempre ricordare che in carcere oltre il 30% dei reclusi è costituito da tossicodipendenti ci sarà un posto diverso dal carcere dove accogliere assistere anche sanzionare queste persone tenerli in carcere significa all'infinito cronicizzare la loro dipendenza e peggiorare la loro condizione sociale in carcere ci sono migliaia di stranieri che sono finiti lì dentro partendo da una condizione di semplice irregolarità amministrativa cioè dal fatto di non disporre di irregolari documenti per l'ingresso e la permanenza in Italia certo poi hanno commesso altri reatti ma all'origine della loro condizione di marginalità c'è l'irregolarità della loro situazione amministrativa cosa mai spinge a sanzionare questa irregolarità con la cella chiusa questo è il punto se noi analizzassimo la popolazione detenuta nella sua complessità oggi sono 56.000 persone circa e cominciassimo a escludere dal carcere coloro per i quali il carcere non è necessario a partire da quei 19 bambini ben inteso ma dai tossicodipendenti ma dagli stranieri dai malati psichici noi ridurremmo via via la popolazione detenuta e renderemo il carcere l'extrema razio cioè la risorsa ultima a cui si ricorre quando tutti gli altri strumenti si sono rivelati inutili questo è il punto è un progetto vero è un programma politico non è una profezia non è l'idea di alcune anime belle rendere superfluo il carcere non abolendo le sanzioni ma sostituendo queste sanzioni così ottuse così inutili e così dannose con altre sanzioni vi dico l'ultimo dato poi mi taccio in germania il 55% delle persone condannate lo è appena pecuniarie in italia lo è appena il 15% poi le pene pecuniare vanno parametrate rispetto ovviamente alla condizione economica dei condannati ma è un modo di infliggere una pena di imporre una sanzione che non costringe a quella condizione di annichilimento vero e proprio che è il carcere della inadeguatezza del carcere nel reeducare reinserire curare persone che hanno gravi dipendenze se ne parla anche in un altro libro del professor Manconi che è uscito di recente per il saggiatore che è Poliziotto 68 ve lo consiglio molto io l'ho letto e come vedete a testimoniarlo ci sono anche dei post-it faccio l'ultima domanda a entrambi la rivolgo prima a Michele poi credo ci sia un ridottissimo spazio per un paio di domande dal pubblico quindi insomma preparatevele anche voi se ce le avete abbiamo parlato abbastanza in questa oretta di come viene raccontato e rappresentato il carcere volevo chiederti se secondo te ci sono dei libri dei film dei graphic novel dei podcast che secondo te raccontano bene una dimensione come quella del carcere e lo raccontano appunto in un modo che è quello che abbiamo provato a utilizzare anche stasera allora in realtà diciamo che quelli seri li lascio a Manconi che sicuramente ce n'ha più di me io mi limito a dirne a dire due cose a parte prima avevo citato Salvatore Ricciardi Salvatore Ricciardi ha scritto un paio di libri anche sull'esperienza carceraria che secondo me sono comunque molto preziosi gli ho scritti con deriva prove uno si chiama Milstorm mi pare l'altro non me lo ricordo però penso si trova scaricabile su internet anche gratuitamente e sono molto interessanti e mentre invece c'ho effettivamente due esempi nella cultura diciamo pop moderna che secondo me parlano di carcere in maniera super interessante molto più di quanto facciano anche prodotti radicali indipendenti underground eccetera uno se vi capita Andor che è la serie tv quella lo spin off di Star Wars prima di Rogue One tutta la parte in cui diciamo la seconda metà della serie in cui Andor si trova in carcere nella colonia penale e c'è tutta quella riflessione sul lavoro e sul fatto che poi loro comunque sostanzialmente poi moriranno là cioè quella cosa lì è molto interessante per il tipo di piattaforma su cui si trova e per il franchise che attraversa e l'altra cosa se qualcuno quasi legge la roba della Marvel Devil Devil ha appena finito una run scritta da uno scrittore si chiama Chip Zarsky che in cui Devil stesso si costituisce e va in prigione e praticamente ha colloquio con le persone detenute e con i con allora devo far vedere scusa non mi sto facendo i cazzi miei giuro no 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 perché la volevo leggere c'è sta Devil che viene accusato per questo di essere un turista dell'ineguaglianza che dice la dottoressa che sta qua e dice ma perché tu sei venuto qua in galera qua c'è stata tutta gente costretta a starci questo posto è pieno di gente che non ha conosciuto altro che ineguaglianza e che per venire aiutato è stata messa nel posto più diseguare del mondo che ovviamente non fa che ricordarglielo dovrei io prepararla a tornare nel mondo mentre vive in un posto che non gli assomiglia per niente e tu invece hai scelto di stare qui sei un turista dell'ineguaglianza che si nasconde dietro al fatto di voler essere trattato come gli altri secondo me questa roba qua all'interno di un prodotto della Marvel è una roba che c'è una forza dirompente quindi se vi capita leggetevelo professore a parte i suoi libri anima e corpo per me è un capolavoro lo stavo dicendo prima grazie ci sono i libri di Michele troppo facile così beh se siamo qui insieme ci sarà un motivo no beh sono usciti un paio di film molto belli è uscito quel film Ariaferma con Silvio Orlando che è veramente un autentico messaggio intelligente e razionale che io cito molto volentieri per un motivo perché porta lo dico subdolamente ma in questa maniera così sfacciata acqua al mio mulino perché dimostra che appunto il carcere è inutile e dannoso perché in quel film emerge nitidamente che l'unico momento in cui tra quegli esseri umani li rinchiusi li rinchiusi i custodi e i custoditti l'unico momento di umanità si realizza quando il carcere fallisce cioè quando il carcere non è più carcere nel momento in cui il carcere dichiara la propria bancarotta la propria impotenza non funziona più ecco che allora emerge la relazione umana prima si manifestava solo la violenza delle relazioni gerarchiche quel film non è un film abolizionista scherzavo prima quando dicevo che porta acqua al mio mulino però è un film che contiene questa profonda verità il carcere è una macchina irrazionale o meglio direi di più insensata cioè priva di qualunque senso di qualunque capacità di guardarsi e di qualunque capacità di guardare quindi una macchina celibe si sarebbe detto un secolo fa una macchina priva di vita una macchina che nega la vita ecco tutte le opere che spiegano questo ricordo per esempio un bellissimo libro dentro si chiama di buon vissuto è formidabile da questo punto di vista perché spiega quella insensatezza a partire proprio dall'intimità di colui che si trova in carcere dal fatto che non si ritrovi più che rinchiuso in una cella fatica fatica a vedersi fatica a parlarsi fatica a riconoscersi proprio perché quella insensatezza toglie qualunque umanità quella insensatezza appunto riduce il detenuto a un frammento di quel sistema patogeno e criminogeno che è il carcere cioè lo cosizza lo reifica o se vogliamo riprendere il discorso che abbiamo fatto all'inizio lo rende infantile persona priva di qualunque capacità di assumersi responsabilità quindi quale utilità può avere un sistema che cancella la tua capacità di assumerti responsabilità assumersi la responsabilità è il segno stesso della civiltà umana è il momento per un paio di domande molto rapide molto concise molto dritte al punto alzate la mano e ci sono dei volontari delle volontarie che arriveranno col microfono una volontaria si vede una domanda là in fondo io avevo una domanda per il professor Manconi allora io sono per i cambiamenti a piccoli passi per questo sono sempre molto drastica quanto ritiene che le nuove figure sociali e psicopedagogiche sempre più diciamo tra virgolette incrementate all'interno delle carceri possano apportare un cambiamento quanto siano soltanto diciamo uno specchietto per le allodole grazie se ho capito bene la domanda è relativa a quelle figure come gli assistenti sociali gli educatori dico bene eh sì anche le nuove figure io lo dico in prima persona perché sto partecipando i volontari giusto no ci sono nuove figure come i funzionari giuridici pedagogici vogliono inserire sia la parte giuridica che la parte pedagogica nelle stesse figure istituzionali di modo che ci sia raccordo fra le due parti ma dunque il problema è che quel sistema per come io ve l'ho descritto raccontando nelle funzioni nocive generali è poi un sistema sgangherato quindi tutte le attività che pure all'interno del carcere ci sono e si sviluppano e hanno una loro vita sono talmente ridotte riguardano un numero così esiguo di reclusi da non avere alcuna capacità trasformativa di quel sistema l'esempio più drammatico è rappresentato dagli psicologi in tutte le carceri italiane sono presenti ma se si divide l'attività lavorativa complessiva degli psicologi di quel carcere per il numero dei detenuti si arriva immediatamente alla conclusione che il singolo detenuto avrà la possibilità di avere un colloquio di mezz'ora con lo psicologo una volta ogni due anni e mezzo questo riguarda un carcere come quello di Monza ma non troppo differente è la situazione delle altre carceri italiane da qui quella ipotesi radicale che io esponevo che dice si deve lavorare concretamente politicamente attraverso misure e provvedimenti anche parziali per andare verso l'abolizione stessa del carcere poi tutto ciò che in questo arco di tempo che sarà assai lungo richiesto da un progetto di abolizione del carcere tutto quello che di utile si può fare all'interno delle singole prigioni è benvenuto faccio un esempio e di pochi giorni fa la notizia che nel carcere bolognese la dozza ha avuto inizio un seminario di filosofia ritengo questa iniziativa straordinariamente importante perché è una di quelle iniziative che dà dignità e in che senso scusate se insisto su questo punto nel senso che dice tu detenuto a prescindere dalla tua condizione sociale tu detenuto a prescindere dal tuo curriculum criminale sei una persona e dunque come tale puoi aspirare alla bellezza puoi aspirare al pensiero puoi aspirare alla riflessione etica e dunque istituire dentro un carcere un corso di filosofia ha questo significato sovversivo in tante carceri italiane ci sono esperienze di teatro corsi di scrittura laboratori di arti figurative c'è una grande attività va incrementata e soprattutto se dovessi dire ci ho pensato un attimo fa quando riflettevo sul grande numero di persone qui presenti c'è qualcosa che ciascuno di voi ciascuno di noi può fare non abbandonare il carcere a se stesso non consentire che il nostro sguardo sia spostato che la nostra attenzione sia rimossa non consentire questa rimozione ciascuno di noi può pretendere di fare una visita in un carcere può pretendere di fare un'ora di volontariato ogni mese può pretendere che la sua classe scolastica oppure i suoi studenti possano incontrare i detenuti fuori dalla cella nelle scuole cioè rompere questo processo micidiale di rimozione significa contribuire a dare a questa macchina che ripeto per me è una macchina criminogena e patogena una qualche forma di dignità che salvaguardi con la dignità dei detenuti anche la nostra di appartenenti a questa società abbiamo tempo per un'ultimissima domanda se c'è molto rapida io ho visto una mano c'è una mano lì ce ne sono due ce ne sono tre purtroppo non possiamo occupare a forza questo palco io avevo una domanda per entrambi fondamentalmente cioè da cosa è nata la voglia di raccontare quello che succede nel carcere che è una cosa che come avete detto anche voi si tende a si tende a non parlarne di questo mondo come se fosse un tabù diciamo io in realtà da dalle persone incontrate nel senso dall'incontro quando dicevo prima con Salvatore Ricciardi che mi ha aperto un mondo a poi una serie di persone che ho conosciuto che per x motivi dai più diversi da quelli politici a quelli dei impicci ci sono finiti ingabbiati dentro e impantanati in qualche modo e questa cosa mi ha fatto vedere quanto fosse diversa il racconto che veniva fatto dai media da quello che invece avevo io nel senso che poi a un certo punto cominciando a conoscere una parte di popolazione detenuta uno si accorge che è esattamente lo specchio di quello che c'è fuori nel senso che è come se fosse un altro quartiere però in qualche modo le persone sono le stesse che ci sono fuori e semplicemente che si trovano in un altro posto e quindi che non sono i mostri in qualche modo alieni rinchiosi là dentro e quindi mi sembrava in qualche modo il minimo provare a restituire a fumetti anche quella realtà alla noi tutti credo amiamo infinitamente la letteratura perché può essere la forma più alta di conoscenza bene il racconto il racconto degli esseri umani in questo caso il racconto della sofferenza degli esseri umani ma in particolare della loro vulnerabilità della loro finitezza della loro imperfezione ecco questo possiamo fare possiamo cioè contribuire a far conoscere questo universo chiuso raccontando ciò che da questo universo chiuso riusciamo a percepire accogliere e moltiplicando quindi le occasioni di conoscenza quindi il racconto di queste esperienze può essere davvero una formidabile forza di rinnovamento io soltanto una cosa volevo aggiungere piccolissima non volevo neanche interrompere l'applauso suo quindi fatelo è che quando dico questa roba io non c'ho nessuna forma di romanticismo nel senso quando dico che è esattamente come il mondo fuori non vuol dire che sono bravi come il mondo fuori vuol dire che ci stanno le persone buone le persone stronze esattamente come il mondo fuori non è che sono tutti buoni semplicemente perché si trovano in una condizione da recluso tutt'altro è pieno di persone che per me sono dei pezzi di merda ma non è che forse anche in questa sala non è altrettanto pieno di persone che per me sono dei pezzi di merda siamo arrivati alla fine grazie a Michele Rech Zero Calcare grazie a Luigi Manconi grazie a voi buon festival letteratura buona serata buonasera a tutti vi chiedo ancora un attimo di attenzione gentilmente se voleste acquistare i fumetti e i libri degli ospiti lo potete fare alla destra del palco siamo tristi di informarvi che il firma copie non avrà luogo e vi chiediamo gentilmente di uscire dall'uscita su piazza Sordello grazie mille buona serata grazie a tutti